... Quindi hai intenzione di correre per tutta la foresta trascinando i tuoi capelli dappertutto, eh? Non posso credere di averlo fatto! Non sei preoccupata di tutte le cose che si possono incastrare dentro? È così divertente! Oh, c'è un rametto? Hai un rametto tra i capelli? E delle foglie? Molte foglie in realtà! Aspetta, quella è un nido di uccello? Schifo! Non tornerò mai indietro! Sta cominciando a diventare disgustoso, adesso c'è anche fango! Spero che sia fango almeno! Oh, c'è un animale morto! Ti sei resa conto che hai un animale morto fra i capelli? Penso che sia uno scogliattolo! Sono così felice! Non ti interessa? Niente? Beh, questa è davvero sfortuna! All'inizio pensavo che tu fossi davvero carina e ci stavo quasi ripensando nel derubarti, ma adesso penso... Tutto ciò è davvero triste e tu potresti essere sul piano della follia! Ah, tesoro! Ok, questo è davvero strano, devo andarmene da qui! Ci vediamo, biondina? È il giorno più bello di sempre! Il giorno più bello di sempre! Ciao! Ciao!